Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli, ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Qui noi già possiamo fare una prima osservazione perché specialmente nei paesi orientali la madre ha poco o nulla influenza sui figli, eppure la Sagra Scrittura è molto chiara. Il papà, ma anche la mamma, ha il suo diritto sui figli. Questo concetto però non è soltanto legato alla famiglia, ma è anche che gli alunni di una scuola devono portare rispetto ai loro professori, ai loro insegnanti. I dipendenti devono comportarsi nei confronti dei datori del lavoro col massimo rispetto, dei cittadini verso la patria, i pubblici amministratori e i governanti. Certo qualcuno potrebbe farmi la domanda, se questi si comportano male, cosa devo dire? Se entriamo in questo argomento non usciamo fuori. Il tema che io sto svolgendo è la responsabilità dei genitori verso i figli e il rispetto e l'amore che i figli devono avere verso i loro genitori. Porto un'esperienza di vita di un caso della Francia di alcuni anni fa. Cati, una bambina francese, tenta il suicidio a causa della situazione familiare. Il padre sparla della madre e gli proibisce di amarla. La madre sparla del padre e non vuole che voglia bene al padre. Rimproveri incrociati. Per lei l'unica soluzione è ritirarsi nella sua cameretta e piangere. Che cosa penserà Cati una volta che sarà diventata maggiorenne, sarà diventata grande? I bambini e i ragazzi contesi tra papà e mamma e sballottolati tra nuovi conici soffriranno il trauma di una tale tristezza di situazione. I figli devono amare i loro genitori ma essi prima di tutto devono amare e rispettare i propri figli. Padre Pio prende un'attenzione particolare e un esempio che ricade proprio sul mio padre naturale che era malato e io lo presentai a padre Pio e disse che aveva un male qui ai polmoni. Padre Pio prende mio padre con la mano sinistra e con la destra comincia a tirarle tanti pugni. Chi te l'ha detto che tu sei malato? Tu stai bene, tu stai bene e così dicendo andò via. Mio padre rimase in vita per altri anni, per oltre vent'anni e morì per altra malattia.